Una trentesima edizione delle Bormiadi che rimarrà impressa negli annali quella che si è conclusa ufficialmente sabato sera al Pentagono, con l'attesissima festa finale, celebrazione che chiude definitivamente il sipario al mese delle Olimpiadi Goliardiche dell'Alta Valle. In Cinquecento si sono dati appuntamento alla struttura per festeggiare insieme, tutti rigorosamente travestiti in base alle trento squadre di appartenenza, trentun compagini, che sono poi salite sul palco per la premiazione finale, senza prima dimenticare i tanti amici delle formazioni delle Bormiadi che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. Passando ai riconoscimenti, il premio a un uomo per lo sport è stato consegnato ad Armando Travucchi, che forse non è mai stato un grande atleta, ma con le sue parole e le sue fotografie è sempre riuscito a far rivivere tantissimi momenti di sport. Il premio dedicato allo sportivo dell'anno in memoria di Matteo Bangarten è stato consegnato a Niccolò Canclini, mentre quello del miglior calciatore, in ricordo di Chico Longo, è andato a ridere il Dakai. Menzione speciale anche per il record man e il record woman, per il nuoto stile delfino a Francesca Bettini a 34 secondi e 35 centesimi, nel lancio del peso 10 metri e 12 centimetri per l'Elisa Fleishman, mentre nel settore maschile per Matteo Castellazzi con 17 metri e 40 centimetri. A concludere, le prime azioni delle classifiche maschili e femminili, che hanno decretato il re e la regina di questa trentesima edizione. Nella sfida rosa, ultimo gradino del podio per le marinarette d'Akis, argento per lei per l'Ala e piazza d'onore per l'Ala Smaracas, che sono riusciti a conquistare la prima acuola dedicata alla classifica femminile. Nella grado dottoria maschile, terza piazza per i soci, che niente hanno potuto contro i balabi 8 secondi e gli herpik, i veri campioni dell'edizione 2015. Al di là delle classifiche, a vincere sono stati comunque il sano agonismo e soprattutto la voglia di stare insieme e a dimostrarlo è stata proprio la serata di sabato, che si è conclusa all'alba con tanta musica e divertimento.